Mi chiamo Alfredo Belli e mi piace il surrealismo, specialmente il 20th century surrealismo, in grandi maestri come Magritte o Dalì. Quando ho imparato, ho provato a imparare le parti che sono sotto la superficie della nostra vita, della nostra mente, e posso introdurre queste due imparazioni, queste arti sono chiamate «Swimming Pool», e si tratta di rappresentare il momento di una scelta di un uomo, perché quando facciamo una scelta, non sappiamo cosa sarà trovato, e quindi il diverso non sappia cosa sarà sotto la superficie di acqua, e questo è il punto reale di questo arti. Nessuno sappia cosa sarà sotto la superficie, e cosa succede per noi quando facciamo una scelta. e possiamo cercare di immaginare, cosa sarà il nostro futuro, ma non possiamo essere sicuri di questo. L'altra arte è chiamata «Demeter», che è la grega di natura, e che è solo un'attributo alla bellezza del mondo naturale, e un messaggio di speranza. che è un'attributo che è un'attributo perché spero, e tutti sperano che la nuova generazione possa essere più riuscita che le primi generazioni sulla conservazione naturale, e l'importanza di preservare la natura. E cosa c'è il futuro? Non lo so, non lo so, non lo so. E questo è tutto. E questo è tutto.